Sono 117 le strutture ricettive abruzzesi che hanno consentito ad oltre 7.000 turisti anche da fuori regione di spendere quasi 3,4 milioni di euro in bonus vacanze, lo strumento previsto dal decreto rilancio in vigore dal 1 di luglio che consente di avere un contributo di 500 euro riservato a nuclei familiari che non hanno un reddito ISEE superiore a 40.000 euro, usufruibile all'80% come sconto immediato sul prezzo del soggiorno anticipato dall'albergatore e al 20% come detrazione nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno. I dati più aggiornati sono quelli dell'Agenzia delle Entrate riportati ed elaborati poi diffusi dal Mibact. Da essi risulta che l'Abruzzo è la settima regione in Italia per importo speso tramite il bonus, un buon risultato che conferma come nell'estate post lockdown la regione verde stia conoscendo un vero e proprio boom di presenze anche grazie a un turismo più di prossimità. Sul podio ci sono l'Emilia-Romagna con 9.500.000 euro e 20.700 bonus utilizzati, la Puglia con 5.800.000 euro e 12.200 bonus utilizzati e la Toscana con 4.300.000 euro e 9.414 bonus utilizzati. Da sole queste regioni coprono la metà degli importi del bonus vacanza. A seguire Veneto, Calabria e Campania tallonate proprio dall'Abruzzo che fa meglio di tante altre regioni che da anni la sul classano per presenze turistiche. Dietro infatti la nostra regione ci sono la Sicilia, il Trentino Alto Adige, la Sardegna, la Lombardia, le Marche, la Liguria, la Basilicata e il Friuli Venezia Giulia. Male invece Piemonte, Umbria e Molise che chiude la classifica con 293 bonus utilizzati per un importo di 137.000 euro. La richiesta può essere fatta fino al 31 dicembre del 2020. Ad oggi sono 140.000 le famiglie che hanno già speso il bonus erogato per complessivi 60 milioni di euro dei 450 stanziati dal MIBACT.